siamo sugli spalti del sanciro di portici la parola massimo uno dei tifosi storici della squadra massimo per i miei giorni di allenamento per la la truppa di mister borrelli che ti sei fatto allora innanzitutto faccio i miei auguri al mister borrelli sui ragazzi poi l'augura che mi faccio in primis avere un'altra volta lo storico sanciro questo è il primo e poi un'altra cosa in vita tutti i porticesi anche con i bambini famiglie a venire a vedere il portici perché il portici ha bisogno dei suoi tifosi chiaro a riguardo la squadra ricordiamo giocherà al paudici di san giorgio un p si chiede un piccolo sacrificio per la società naturalmente verrà in conto le esigenze che sia la grande festa del fine settimana andare a vedere a san giorgio il portici un campo uno stadio aperto a famiglie a bambini perché il calcio ricordiamo no alla violenza e viva sempre fair play va bene san giorgio come campo soluzione provvisorio però noi cerchiamo sempre san giro comunque io invito tutti a venire a san giorgio cinque minuti a piedi con la macchina con il motorino invito tutti i ragazzi famiglie e bambini a san giorgio tranquilli i san giorgio ci sono amici e va bene così bocca al lupo grazie prego